È un lavoro per il quale io devo ringraziare i presidenti delle regioni, quello che riguarda particolarmente i fondi di sviluppo e coesione, perché come diceva correttamente il presidente Occhiuto, tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo e c'è stata e c'è una enorme collaborazione, noi abbiamo già firmato, questo è il decimo accordo di coesione che firmiamo, ne sono già pronti altri sette, sei se non vado errata e gli altri stanno lavorando, poi ciascuno ha le sue difficoltà, ma tutti sono collaborativi, salvo diciamo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale, ma insomma voglio dire rispetto per carità, insomma non neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa dei fondi necessari, forse se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare si potrebbe ottenere qualche risultato in più, ma questa è un'altra questione.